Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti alla puntata numero 68 del Pietro Toranti Cycling Podcast con Marco Grassi che si pulisce gli occhiali solo per voi, lo fa una volta al mese ragazzi, io ve lo dico vuol dire che è un'occasione importante, infatti siamo qui per i campionati europei caro Marco, come stai? Mi sono appena accorto che erano sporchissimi, tra l'altro a me succede questo praticamente, siccome non vedo, devo cambiare, l'ho raccontata non vedo bene da vicino, devo cambiare gli occhiali, devo prendere quelli con le venti progressive allora a volte sto leggendo una cosa da vicino e mi tolgo gli occhiali a volte succede che sto leggendo e faccio per togliermi gli occhiali perché non vedo ancora bene ragazzi, l'elentamento è una brutta cosa immagino, lo so, ma le lenti progressive fanno tipo beh allora ci sono gli europei campionati europei da questa introduzione esatto questa era la sigla degli europei venticolare c'è una missione progressive di questa c'è una puntata solo cantata che siamo a fine stagione prima o poi dovremmo farlo come diceva Marco al caro Marco ho ben 11 schede i pcs aperte non succedeva da un po' perché veniamo da mesi e mesi e mesi di grand tour di corse comunque anche giri brevi in mezzo ai grand tour era un delirio infatti in realtà oggi potremmo anche completare i nostri discorsi sulla vuelta ma in realtà fra un video di ciclo web un'osteria io addirittura sono stato anche al GCN show a parlarne mi sa che ne abbiamo parlato ormai un po' in tutte le salse di questa vuelta Marco non so se vuoi dire qualcosa sulla sulla fuga della tappa 21 o qualcosa del genere no avevo una curiosità ma anche tu quando dici o senti dire grand tour pensi al grand turco per esempio che a me capita o al grand turchese anche vabbè grand turchese ce n'è uno come lui non ce n'è nessuno di grand tour ce ne sono tre invece e ci dobbiamo all'ambizione di tutti e tre alla fine abbiamo usato la grande in questa stagione si 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 sepp course alla fine ha fatto l'incredibile comunque no volevo dirti solo questa cosa ti ricordi che dissi che cioè per me sarebbe stato veramente un'impresa importante se fosse riuscito a tenere tutta la vuelta al terzo grand tour lo confermo è veramente un risultato atletico assurdo la cosa più assurda la cosa più più importante secondo me a livello di dato puramente fisico tecnico che hai già lasciato ah penso stessi continuando si no l'ho un po' troccata lì in effetti un annunciato dopo sì non posso che confermare va bene insomma mi stupisce fino a un certo punto meno di quanto abbia stupito te la cosa sì lo so ne abbiamo già parlato la settimana scorsa in realtà di questo fatto esatto esatto alla fine abbiamo avuto solo conferme fondamentalmente nelle ultime due tappe cioè nella 20 non è successo veramente nulla poi appunto la 21 in realtà è stata una delle più divertenti incredibile questo sì incredibile incredibile Ulp va bene possiamo passare oltre i grand tour di quest'anno poi anche i grand tour tutto quello che volete tuffiamo sia negli europei terrei questa struttura facciamo ordine cronologico ma prima partiamo dalle gare che ci sono state oggi perché sono fresche e noi siamo molto giornalisti sì quindi seguiamo giustamente questo tipo di regole era quasi una battuta questa non so se si è accorto vai tu mi hai seguito tutto minuto per minuto ovviamente io ho seguito tutto ho visto circa boh quattro minuti di tutte le corse di cui parlerò totali e sono stati della crono maschile che stavo vedendo e poi sono stato colto in altre cose dunque oggi ci sono state le due però so tutto so tutto non preoccupatevi oggi ci sono state le due crono squadre miste quelle con tre uomini e tre donne e l'Italia si è beccata due medaglie argento nell'elite con purtroppo solo quattro secondi di distanza dai francesi queste sono le cose che fanno male dalla vita proprio quando perdi poco dai francesi e niente a fini cattaneo sobrero cecchini guazzini paladine era il nostro sestetto ovviamente con l'assenza importante di pipo ganna che in realtà in questo europeo ha deciso di fare solo la gara in linea ha saltato anche la crono individuale di cui poi parleremo mentre mi si stanno scaricando le cuffie questo è un problema ma adesso ti lascerò la parola e nel frattempo lo risolverò ha vinto la Francia di Juliette Laboue Cédrine Kerr Baol che si è rivelata al tour molto forte giovane e Odrico Codon-Ragot una delle migliori specialiste aveva un terzetto femminile veramente importante anche il maschile tre cronomen fatte finite Armirel Cavagna e Thomas però zamba tutti veramente di poco terza la Germania ottima prova direi dei nostri comunque tu parli di Ganna però anche se ci fosse stata Longo Borghini che pure era annunciata poi ha dato forfè perché evidentemente non se l'è sentita ancora fisicamente di affrontare questa prova anche una Longo Borghini al meglio o comunque in buone condizioni avrebbe potuto colmare quei quattro secondi di gap vabbè è andata così non piangeremo voglio dire terzo posto per la Germania poi Olanda Polonia Svizzera Belgio va bene questo un po' l'ordinato arrivo della mixed relay poi c'è stata la mixed relay poi prima c'era stata la mixed relay degli uniones che come diceva Stefano poc'anzi mentre noi eravamo ancora collegati era la vera gara importante era la vera gara da vincere ovviamente perché perché dici ciò Stefano perché perché all'europeo soprattutto dove appunto in realtà le nazioni non mandano tutti i migliori la creme della creme come ai mondiali spesso e volentieri scopriamo nuovi talenti e cosa possono fare nelle prime occasioni a questi livelli cioè nelle competizioni per nazionali la prima volta che li vediamo nello junior quindi questo oro raggiunto dal sestetto Luca Zaini Andrea Bessega Obessega ce lo dirà lui poi Obessega quando ci parleremo Andrea Montagnier o Montagner che dir si voglia con Eleonora Labella Alicia Etonioli e Federica Venturelli che è la nostra nuova mattatrice della quale già ti parlai e diciamolo è la Eliolli uno dei primi luoghi in Italia dove si è parlato di Federica Venturelli futura molto probabilmente ottima ottima pro che ha vinto anche la Crono Junior individuale e ci ha trascinati in questa prova 25 secondi sulla Germania e poi se vedi 25 secondi sono tanti cioè i distacchi successivi sono tutti e l'ordine dei 5-10 secondi 25-34 a Francia 44 l'Olanda ci sono 6 nazioni in un minuto e noi a seconda abbiamo dato 25 secondi a me sembra decisamente una prova interessante Marco confermo confermo dai alla fine indipendentemente dallo stato di salute di un movimento però ci sono comunque dei cicli quindi dopo aver avuto un ciclo di bassi per quanto riguarda magari i corridori da grandi giri qualcosa pare che si stia muovendo da quelle parti quindi se se si innesca un ciclo di 5-6-7 anni di ragazzi che vengono fuori qualcuno fra questi ecco mi sembra che siamo nel mezzo di questo tipo di ciclo e quindi alla luce di questo ulteriore fiducia nel futuro del del pedale italiano va bene sto facendo uno Stradamus oggi va bene però in positivo diciamo beh una volta tanto in positivo se voi dove mettete la virgola e il punto cambia completamente il senso di quello che ho detto come le quartiere di un Stradamus giusto 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 prima vedevo che ti stavi appassionando ai nomi francesi di questa cromosquadre mista junior dove sei presente per esempio Julie Begaud campionessa mondiale Leanne Tabou mi piaceva questo cognome Tabou ma i cognomi francesi in realtà sono sempre molto belli in genere Maxime Leanne Tabou che tra l'altro è campionessa nazionale francese sia a crono che in linea quindi anche lei dovrebbe essere decisamente un ottimo prospetto per gli anni futuri Alice Breda sono con noi bellissimi comunque cosa mi pensi di quel discorso che facevo appunto sugli europei cioè anche un po' su pista succede questo sono un po' una palestra quindi secondo me per le giovanili in realtà sono molto interessanti Sì sono molto d'accordo e niente non ho molto da aggiungere in realtà diciamo che è una manifestazione che deve ancora trovare una sua dimensione reale nel senso che il fatto di essere un po' ballerina in calendario questo vale sia per la strada che per la pista che gli europei su pista si spostano continuamente anche di molti mesi da un anno all'altro quindi diciamo che è una manifestazione che al momento è un po' un riempitivo del calendario però insomma si può ipotizzare che poi nell'andare se verrà confermata se verrà continuata a essere organizzata questa rassegna non credo che non sia così può assumere anche una sua rilevanza per il momento è ancora poco secondo me sentito l'europeo tu pensi che sia destinata a chiudere prima o poi? no 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 al contrario penso che sia destinata ad andare avanti a rafforzarsi però al momento ha ancora le gambe fragili e quindi torna proprio il discorso della palestra perché non essendo una prova considerata di estrema importanza allora le federazioni possono anche e lo fanno osare un po' andare qualche nuovo nome nelle varie selezioni ah sì eh sì quindi molto bene molto bene i ragazzi poi queste prove corali danno proprio un po' la dimensione di un movimento sempre di più sono arrivati cantando tutti insieme all'arrivo questo team relay misto second mixed secondo me si sta facendo sempre più strada format fresco come dicevo Federica Venturelli ha vinto anche la Crono Junior perché passando appunto chiudendo con le gare di oggi tornando facendo un passo indietro all'inizio di questi europei da adesso in poi andiamo in onda ecologico in avanti vi sto creando memento dentro un podcast ok Federica Venturelli anche lì 24 secondi alla seconda classificata su 19,8 km qui ragazzi c'è un motore abbiamo un motore questo quantomeno possiamo fissalizzare brava brava qui Alice Tonio 8,8 seconda Stina Kagevi o Kagevi svedese e terza Anna Kunz ovviamente tedesca mi viene da dire Kunz 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 devo dire che sono un po' restio al sottolineare troppo i risultati del singolo negli Junior mi piace di più magari se tu vedi che c'è un po' di movimento in maniera orizzontale ci sono più ragazzi che possono fare il risultato e questo lo stiamo vedendo però concentrami sui risultati di un unico atleta o un'unica atleta sono un po' restio quando sono Junior perché insomma abbiamo visto tante situazioni di ragazzi o ragazzi che sembriamo destinati a spaccare il mondo e poi dopo magari non sono neanche diventati professionisti si sono fermati nella categoria intermedia quindi anche per un discorso di pressioni da non gravare sulle spalle che sono ancora insomma non sono così larghe a 17 anni 18 anni assolutamente è vero ma è anche vero che sempre di più diciamo che essendo il ciclismo Junior già molto simile al professionismo certo c'è il rischio di bruciarsi ma c'è anche un po' la consapevolezza che se tieni tutto insieme se vai forte da Junior più o meno vai forte anche da Pro perché il motore c'è la stoffa comunque Venturelli sembra averla vince dappertutto vince su pista vince in linea vince a crono molto bene direi speriamo in lei tanto quanto per esempio in Gran Bretagna sperano da anni Inzo e Baxtet che ha vinto ovviamente viene da dire la prova under 23 cioè ancora sta lì a fare le prove giovanili Baxtet ma come insomma sono anni che le domina seconda per esempio Baxta questa è la bellina è Baxta seconda per esempio arriva Antonia Niedermeyer a 58 secondi anche qui su 20 chilometri lei che è già una fermata atleta world tour comunque perché Baxtet fa ancora gli under 23 vabbè perché gli inglesi devono sempre farmare medaglie mezzo anillo sappiamo mi ci dice di tappa al giro Antonia Niedermeyer ricordiamo è una bella fuga esatto anche a Nina Tosalo è comunque la vediamo sempre correre nelle gare principali quindi va bene dai funziona così la categoria under è quella sì l'under 23 è una categoria veramente strana mentre appunto in realtà la junior è quella più interessante probabilmente e fra i maschi junior sempre cronometro stanno parlando il campione del mondo il carissimo Albert Witten o Witten Philipsen vale a dire il Philipsen forte colui che entro pochi anni conosceremo come il Philipsen buono ha vinto appunto anche la cronometro degli europei dopo aver vinto il mondiale a Glasgow mica male anche qui qual è il danese più forte che ti viene in mente nel ciclismo beh Wingergord è l'unico che non hai visto fare risultati gare è vero è vero beh Matt Peterson c'era però dai lui è sempre andato fuori uno su dieci però capito sì i danesi si bruciano ma tutti gli atleti del nord della Scandinavia molto spesso hanno sono più forti da giovani che dopo no? anche da giovani perché ha 24 anni perché sono giovani da giovanissimi vediamo come la vuoi mettere però comunque è vero è vero vedremo infatti dove andrà sto Philipsen però anche qui insomma però domina la base c'è la base c'è mettiamola così ha battuto nettamente anche qui 47 secondi dominanza totale secondo Nordagen terzo sentience e il nostro Jaime è arrivato quinto che comunque è un discreto prospetto diciamo che la cosa la cosa scusami rilevante è proprio anche la giovane età di Philipsen che è un primo anno quindi comunque ha 17 anni e li ha fatti tra l'altro all'inizio di settembre per il 3 settembre quindi aveva 16 anni fino all'altro giorno capito e domina la scena a quel livello precoce e precoce precoce e precoce secondo me se lo ritroveremo poi vediamo vediamo ecco per esempio uno su cui secondo me è difficile mettere la mano sul fuoco anche se insomma sono anni che dimostra 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 ma a livello pro sarà un corridore dominante o un corridore di secondo piano Alex Segaert che anche lui continua a correre la Cro-Andre 23 ovviamente la vinse grazie a Alec di questa di questa prova 38 secondi a Bevor e 52 all'ottimo Gustav Wang che è un altro di quei danesi giovani fortissimi eccetera eccetera top 10 comunque piena di corridori appunto già nel giro delle World Tour ne le devo già conosciuti Garcia Pierna Louis Vuittus Rafferty insomma tutta gente che con ogni probabilità sta per passare il magico Tim Thornt Teuttenberg tutta gente che sta per passare probabilmente pro Segaert vabbè è notato che in quella famiglia c'erano tutti il doppio nome sì sono degli idoli incredibili veniamo invece alle due prove Elite con nel femminile il dominio di Marle Roycer che si conferma per la terza volta se non sbaglio consecutiva agli europei terza volta consecutiva praticamente lei fa un campionato e le altre un altro cioè Anna Henderson è arrivata a 43 secondi anche qui veramente abbiamo tutti i domini a crono più o meno e poi fra la seconda e la diciassettesima sono in 59 secondi e lei ne ha dati 43 alla seconda ha fatto un finale ha fatto un finale mostruoso la gara l'ho seguita tutta ieri c'è stata la Copechi che è partita così così poi nel secondo settore si era portata proprio al ridosso della prima che in quel momento era la Schweinberger che aveva fatto la Gran Crono tra l'altro poi però è arrivata la Roycer e le ha stese appunto con un finale notevole torna alla mente il finale invece strambo del mondiale quando si fermò così a metà gara che non aveva più voglia di portarla a termine e quindi devo anche chiedere scusa a Marlene che è una dei mie cicliste preferite perché dopo quella scena io in una live dissi non so cos'è successo non so nella sua testa ma sicuramente le vorrei consigliare di star senza bici per un po' in realtà lei pochi giorni dopo ha fatto il mondiale in linea è andata fortissima ha sfiorato il podio una delle migliori gare in linea nella sua carriera direi e adesso poi ha continuato la stagione tranquillamente è tornata a vincere come al solito è andata fortissimo a romandia femminile è andata forte anche in salita è annata della vita e sembra ancora in crescita incredibilmente e quindi niente mi ricordo che un utente mi aveva scritto che secondo me avevo esagerato nel dare consigli perché chi cazzo sono per dare consigli e aveva ragione una volta tanto voglio fare questo mea culpa anche nei fatti perché effettivamente poi lei si diverte andare in bici io la seguo sui social ha recuperato perfettamente tutto quanto è bomba a vederla bene è una bella storia nel senso che ti dice che se tu in un momento anche tu persona normale non vai in bici mentre loro non sono normali hai un momento di burnout un momento in cui dici no basta mi devo fermare questo non non inficia probabilmente il tuo percorso non determina un crollo delle due attività niente ti devi solo fermare e prenderti un paio di giorni di stacco quello che ti serve e poi vedi questa vederla bene a volerla leggere invece con malizia secondo me quella volta al mondiale lei aveva incaricato qualcuno di sua conoscesa di scommettere sul suo ritiro dopo 13 km gliel'avevamo quotato a 700 Marco fermati che qua si denunzano dovete denunciare lui Pietro Toranti io sono sotto la circonvenzione di incapace quindi quindi va bene molto bene Anna Anderson lui mi circonviene mi circonviene mi circoncide circonvenzione qual è il verbo beh sì circon non ne sono sicuro circonvenire ma convenzione non viene mica a venire in teoria qualcuno ce lo deve qualcuno ce lo dirà nei commetti vabbè sì minzione viene da mingere quindi circonvengere circonvengere se è così mi circonvengere qui ragazzi stiamo riscaldando il deragliamento passando al maschile passando al maschile abbiamo avuto l'ufficializzazione anche all'europeo del talento del talento di Joshua Tarling che già aveva fatto benissimo notoriamente nella Croa Mondiale ha preso un bronzo molto inatteso dal grande pubblico ma sicuramente atteso da chi si studia i prospetti chi lo conosceva bene perché è un manzo atomico veramente impressionante Joshua Tarling 1,94 un'ottantina di chili 19 anni e vince gli europei così come fece Remco e Venepul 4 anni fa esattamente la stessa età qualche giorno in più o qualcosa del genere batte di 42 secondi un altro dominio Stefan Bisseger terzo Fout van Aert a 43 che è riuscito a fare questa volta si è superato ha fatto secondo dei secondi cioè tu in questa crono Tarling era praticamente imbattibile se arrivai secondo ti potevi quasi considerare primo e ho riuscito a perdere di un secondo dal secondo in volata al photo finish praticamente complimenti non ti seguo perché qui c'è in filigrana il discorso è un argento che vale oro quindi proprio non ti posso seguire questa cacchina che hai preso cacchina Martini il punto è un altro il punto è un altro discorso che volevo fare questa crono non la fa neanche Ganna perché Van Aert deve fare la crono degli europei perché si perde a fare ste gare che poi neanche vinse perché che gli piace perdere no perché la classifica dei secondi posti è secondo anche lì dietro a Ganna Pietro Ganna lui stava cercando di fare il secondo posto l'ha perso per un solo secondo da Bisse che ha rosicato pure parecchio quindi farà secondo domenica è una prova in linea di cui a breve parleremo a questo punto mi sembra un risultato già scritto sì abbastanza probabilmente dietro al suo compagno poi vedi ti dico anche chi quindi primo Tarling secondo Bisseger terzo Van Aert quarto Bjerg quinto un ottimo Mattia Cattaneo un grande spolvero in questa seconda metà di stagione devo dire grande vuelta e poi via via tutti gli altri undicesimo a un minuto e 29 è arrivato il signore che vedete alle nostre spalle o del quale vi posso descrivere le fattezze se ci state solo ascoltando ma forse descrivendole ci bannerebbero il podcast perché entriamo in un territorio assolutamente splatter veramente splatter questa scena di Stefan Küng che si schianta contro le transenne perché stava guardando il Garmin e non la strada e avevano messo delle transenne che coprivano un pezzo di quella strada per qualche motivo di sicurezza paradossalmente lui non guardava si si è schiantato di netto ai 60 all'ora e ok può capitare anche se è stata una scena veramente strana perché non se ne è accorto non ha curvato non ha frenato è stato impressionante è stato come un videogioco praticamente quando sei videogioco di motociclette o di bici stai ancora imparando a usarlo e quindi ti schianti contro le cose ma la cosa assurda Marco è che col casco rotto col casco rotto sottolineo è tutto insanguinato oggi sappiamo che aveva una commozione cerebrale e la spalla e gli è stato permesso di arrivare al traguardo così ma guarda è stata una situazione talmente strana perché lui si è rialzato senza il supporto di nessuno mi sa e l'ha ripartito capito la crona era quasi finita ma gli mancava forse un chilometro e mezzo non lo so nessuno è intervenuto a quanto mi pare di aver capito e quello è il problema nel senso diciamo che i tempi erano così ristretti che magari mandare un moto della giuria lì non faceva in tempo non ha fatto in tempo ad arrivare per valutare la situazione o la macchina del medico io cioè è una situazione difficile abbastanza senza precedenti in questi ultimi anni diciamo da quando c'è questa maggiore sensibilità prima magari ne succedevano anche spesso di queste cose però nel senso adesso sappiamo che un corridore con una potenziale commozione cerebrale come può avere uno che si è appena schiantato di faccia contro le transenne l'asfalto e non sapevamo se ce l'avesse o no adesso lo sappiamo ma era sicuramente potenziale col casco rotto ha fatto un chilometro e mezzo quello che era al massimo delle sue potenzialità cioè andando anche forte ha perso solo un minuto e mezzo alla fine insomma non è che è andato ai 30 all'ora ok che tra l'altro per me sarebbe fortissimo vabbè con un rischio enorme Marco cioè c'è la commozione cerebrale la visibilità ridotta che c'è tutto il sangue e non hai il casco basta che fai una scivolata sei mi sembra palese il rischio morte addirittura cioè non vorrei essere tragico infatti quando facciamo il discorso della fortuna dei ciclisti che è un tema che dovrebbe essere escisso dalla dalla narrazione del ciclismo in luogo invece di misure e strumentazioni che possano amplificare al massimo la sicurezza in corsa parlavamo di questo gli è andata bene tutto sommato a Kung è caduto si è fatto male però poteva cioè l'ipotesi che tu hai prospettato non è per niente remota cioè poteva succedere tranquillamente non era uno su un milione non era uno su un milione cioè e a quel punto cosa avremmo detto avremmo detto perché nessuno l'ha fermato perché non l'avremmo messo sotto inchiesta agli organizzatori giudici tutti sarebbe successo un casino infatti non sia successo non ci deve emendare invece dal dire che non doveva succedere e dal predisporre a quanto possibile delle contromisure a situazioni del genere protocollo per cui se tu cadi sei obbligato a fermarti se sbatti la testa sei obbligato a fermarti e farti vedere da un medico non lo so ora commenteranno e diranno eh sì ma tu se uno cade nel corso della gara non puoi vabbè ho capito ma non tutti cadono sbattono la testa rompono il casco cioè eh sì casco rotto cioè il punto è questo il punto è questo da regolamento tu non puoi correre col casco rotto quindi in teoria una volta che lo rompi ci dovrebbe essere qualcuno che arriva e ti dice sei fuori regolamento cambia casco al limite cioè quantomeno metti un casco cioè dico proprio per stare nel regolamento più puro per non aver scappatoie anche certo l'altro discorso che sicuramente magari qualcuno farà e faccio anch'io perché mi sembra assurdo francamente è che i corridori devono un attimo darsi una regolata qui perché veramente per limare un quarto di secondo perché non cioè non guardi la strada per niente così qui ragazzi un attimino come in tanti altri sensi prendo per esempio una caduta lì alla vuelta l'ultima settimana quando è caduto Gross tante interviste dopo quella caduta e dopo tante altre cadute gli ultimi anni ti diranno ah ma c'è la gente che non guarda in giro oppure si volta quando non dovrebbe e oppure fanno gli spacconi in mezzo al gruppo e non andrebbe fatto cioè queste persone dovrebbero capire pur essendo atleti oppure essendo competitivi pur avendo la furia agonistica che io comprendo perfettamente ti fa proprio avere il sangue che ribolle tutto quanto però ci devono essere dei limiti in questo cioè ci deve essere un minimo che tu capisci proprio priorizzi ciò che va priorizzato un attimino hai detto tutto tu sì è lo stesso discorso se vogliamo dello smartphone alla guida no? sì tutti sappiamo che non si deve fare però ogni tanto magari a qualcuno scappa l'occhio su whatsapp mentre sta guidando la stessa cosa è per loro diciamo che il device il dispositivo comunque ti assorbe anche se sei un professionista cioè io mi metto nei panni di un corridore che da anni ormai fa tutto allenamenti gare sgambate qualsiasi sempre col computerino diventa anche proprio dipendente da quei dati sì sì certo ti ricordi Bettiola Bettiola al zero esatto sì 300 metri gli segnalava il computerino invece erano 200 quelli che mancavano dall'arrivo erano 400 erano 400 è quello il problema quindi è partito lungo sì e quindi cioè sì i corridori devono metterci più attenzione io vorrei che avrei voluto che Kung una volta capito di aver sbattuto la destra si fosse fermato per quello questa è la cosa che io avrei spiegato come segnale di sensibilità però se lui se la sentiva di andare avanti cioè io lo capisco lo spirito gladiatorio per carità no 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 per carità però lo capisco fondamentalmente per qualsiasi altra parte del corpo che non sia la testa la faccia cioè sei veramente pazzo sei veramente pazzo cioè i concussion protocol appunto che esistono anche nel ciclismo non esistono per caso non esistono i protocolli se ti rompi una gamba tu ti rompi una gamba chi se ne frega cioè al limite rimani zoppo ma qui rischi veramente molto di più per cosa poi cioè per arrivare un dicesimo invece che DNF why questo mi sfugge veramente pur lodando appunto per carità le doti gladiatorie che ben conosciamo tra l'altro di Stephen King da sempre tanto ormai l'abbiamo messo in blacklist quindi se ne va l'affano così quello scemo dai Stefanone porca miseria più in che tra l'altro che non ha partecipato poi alla alla team relay di oggi e infatti la Svizzera poi non ha vinto perché chi è che ha partecipato al posto suo mi sembra Jan Kristen se non sbaglio fammi vedere un secondo al volo ah no Fabio Kristen era lol perché avevo letto Kristen in ziro ma era Fabio ok giustamente però sì senza di lui la formazione perdeva molto eppure avendo Roycer che di solito fa una gran differenza del femminile comunque sono arrivati i sesti hanno perso un minuto non era la stessa Svizzera ovviamente senza Stefan Kjung poi vabbè ci sono state altre due gare c'è stata la omblop Vanhet Outland vinta a Gerben Tyssen o Tyssen con un mozzato quinto vedo un ottimo Kasper Vanhuden sesto una gara molto selettiva ok e poi c'è il giro di Lussemburgo sti giorni ieri ha vinto Corbin Strong oggi ha vinto gli ente Birmans ma soprattutto la notizia che si sta rimbalzando un po' in giro Marco te lo dico scommetto che non lo saprai perché non sei in certi circoli ma il bandito Luca Vergallito è arrivato in gruppo entrambe le volte e in questi gruppi di 40 60 corridori che arrivano in fondo al tour di Lussemburgo comunque sono quasi tutti ottimi corridori world tour e ci sono tanti grandi corridori anche mi viene da dire cioè da Ciccone Carapaz Baggioli Aramburu Alafilippe Maduas Jorgensen sta giocando con questi qui adesso non so come la vedi Marco ma mi sembra sempre più vicino a arrivare poi alla squadra pro e giocarsela con questi qui eventualmente o comunque essere appunto nel loro stesso campionato più o meno 32esimo in classifica attualmente è una cosa che deve mostrare ancora il suo meglio dal punto di vista dei giochi di classifica ma il paradosso è che lui va a forti montagne in teoria appunto quindi deve mostrare il suo meglio sotto tutti i punti di vista va bene aspettiamo perché queste sono state tappe nervose un po' vallonate anche difficile a stare in gruppo a rimanere davanti se arriva avanti alla fine vuol dire che sei stato nella prima parte del gruppo a mezzoparte del tempo un bel segnale peccato che in questi giorni si sovrapporrà un po' all'Adriatica Ionica Race perché uno che ce l'avremmo buttato con più no? questa era cattiva si sovrappone parliamo anche di sta cosa al volo perché in realtà ancora non sappiamo la conclusione finale ok? ma poi dopo come finale di podcast guardiamo il percorso della gara in linea e la start list al volo ma sempre al volo questa storia dell'Adriatica Ionica Race sostanzialmente la corsa deve iniziare domani dovrebbe iniziare domani e si è saputo e si è iniziato a sapere da qualche voce in giro un paio di giorni fa che forse non si sarebbe disputata o sarebbe stata rimandata sospesa cose varie sospesa per nebbia diciamo poi niente sostanzialmente oggi sono arrivati a pioggia due comunicati da parte dell'organizzazione di AIR e altri due invece da parte della Lega Ciclismo riassumendo molto 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 stringato la Lega Ciclismo dice non sono stati adempiuti i pagamenti da fare per insomma questioni di sicurezza organizzazione e sì in sussistenza dei prescritti presupposti regolamentari delle necessarie condizioni di sicurezza quindi appunto non c'erano i soldi fondamentalmente per organizzare tutto ben bene cosa confermate in due diversi comunicati stampa inframezzati però scusa ma c'era anche un discorso legato a dei premi che non erano stati ancora pagati l'anno scorso che mi sembra di capire questo anche sì ma in questi comunicati non mi sembra sia stato scritto invece non è stato reso ufficiale o se non ho capito male perché comunque sono anche scritte un po' in legalese questi comunicati mentre appunto da parte della adriatica Ionica Race dicono che stamattina alla fine hanno pagato mentre di là dicono sì ma ieri sera era già ufficiale che non avevate pagato e quindi non si può più far niente però adesso l'ultimo comunicato credo non so se è l'ultimo veramente perché mi sono perso qui con gli orari ma l'ultimo comunicato di Ayr dice noi abbiamo pagato adesso la palla passa a voi ce l'ha dato no l'autorizzazione quando loro avevano già detto la prima è ufficiale definitivo ce l'ha scritto che non avete autorizzazione Marco tu che sei esperto di queste storie aiutaci ma le squadre che dovevano partecipare sono rimaste tutte lì ad aspettare gli eventi o se ne sono tornate a casa perché poi se la forza avrebbe partito domani stasera non sappiamo ancora se si gareggia questo è da vedere che ti devo dire Stefano io vedo che all'estero vengono organizzate delle corse magnifiche che si autosostentano in qualche misura e in Italia a volte capitano queste situazioni borderline va bene in realtà abbiamo visto problematiche legate alla sicurezza al Tour des Pirenes femminile qualche mese fa la corsa è stata addirittura poi cancellata all'ultima tappa proprio perché non sussistevano ragioni di sicurezza sentivo parlare di polizia che non poteva essere pagata dall'organizzazione il fatto che insomma rende impossibile lo svolgimento di qualsiasi corsa perché non sussisterebbero le necessarie condizioni di sicurezza io vedo logisticamente difficile c'erano squadre anche di un certo livello che dovevano partecipare a questa corsa alla fine magari la tappa di domani salterà faranno le ultime due con soltanto le continentali italiane per dire di averla disputata questa corsa però onestamente una corsa che era partita con ben altri presupposti avrebbe dovuto essere transnazionale avrebbe dovuto insomma svilupparsi con i paesi costieri dell'Adriatico andando fin giù all'Albania e alla Grecia addirittura cioè questi erano i presupposti di cui si parlava quando venne lanciata partenza nell'area del Triveneto e poi corsa che si sviluppa verso i Balcani e invece è stato un continuo rinculare di questa organizzazione che si è vista obbligata anche a diminuire le tappe poi quest'anno addirittura un percorso abbastanza insomma è un po' strambo questo percorso con grandi trasferimenti tra una tappa e l'altra e forse si si è lamentati anche di questo non lo so sì il percorso era veramente assurdo quest'anno sullo Ionico cioè tutto decontestualizzato poi rispetto alla corsa che abbiamo visto gli anni scorsi esatto perché evidentemente lì in zona friurana e quant'altro non c'era più interesse non c'era più volontà di investire in questa corsa peccato tra l'altro come noto era corsa che teatro dell'episodio che lancò il mio canale come tutti sanno scusami ti voglio ti voglio segnare questo trasferimento tra la prima e la seconda tappa prima tappa con il popoli trasacco trasacco credo sia nel Lazio o in Campania non lo so però da trasacco a conversano dove c'è la seconda tappa c'è 350 km in Abruzzo ah in Abruzzo ok scusate la mia ah ecco ecco perché lì c'è il crozzicchio lì ci sono quattore zone eh sono 400 km di trasferimento quasi no 400 no ma 300 sicuramente e non sono su strade comode sono tipo quattro ore e mezzo avevo guardato su Google Maps una corsa di tre giorni c'è già un trasferimento di 300 km al primo giorno secondo giorno da Castellaneda a Castanello Ionica c'è da fare tutta la Ionica insomma male abbastanza male dispiace dispiace perché dispiace ora dire male di una corsa italiana che comunque tra le difficoltà di questi anni non dimentichiamo il Covid che è stata anche una mannaia per tutti eh certo ha provato ad andare avanti in qualche modo però c'erano già dei sentori vedendo proprio il ripiegare da parte dell'organizzazione rispetto ai proclami iniziali ripiegare su una tre giorni di gara in questa occasione appunto con questi trasferimenti trasferimenti da tutt'altra parte rispetto al territorio toccato alle origini diciamo anche se con una come posso dire una coerenza no? perché comunque sono località che sono appunto sull'Adriatico o sullo Ioi sì sì per carità sono tenuti la finestra aperta siamo tenuti la finestra aperta è talmente largo è talmente largo vale tutto anche se avessimo fatto tre tappe in Albania cosa sicuramente succede diventa il tour della Grecia 2.0 certo però diciamo che siamo lontani da quello che c'era stato prospettato e quando succedono queste cose alla fine poi posso farti un discorso non lo so forse è un'analisi anche un po' qualunquista ma credo posso farti un discorso da fratello maggiore prego fammelo io a te non credo non potrei mai non mi permetterei quello era bello no così visto che ero appunto mentre parlavamo sulla pagina sulle pagine varie del sito dell'Adriatica Ionica Race che tra l'altro è fatto super bene un bellissimo sito devo dire e quello che notavo cioè praticamente c'era il il playerino youtube e ho visto Silvio Martinello che faceva le ricognizioni del percorso di quest'anno e allora sono andato a vedere il canale youtube e volevo dire una cosa molto semplice secondo me uno dei problemi principali se non il problema principale del ciclismo italiano ma non è solo del ciclismo è tutta una serie di modi di fare le cose e di cose fatte in un certo modo è per esempio il fatto che nel canale youtube dell'Adriatica Ionica Race ci sia percorso prima tappa AER 2023 con Silvio Martinello che infatti è anche un discreto numero di viso e poi c'è il saluto del sindaco di Corropoli il saluto del sindaco di Trasacco il saluto del sindaco di Conversano il saluto del sindaco di Castellaneta in mezzo ci sono anche altre preview di Martinello il saluto del sindaco di Cassano all'Ionio come si fa a dire all'Ionio è difficilissimo il saluto del sindaco di Crotone gran finale giustamente che è l'ultimo video postato due settimane fa ora a me ogni volta fa impazzire totalmente che questi sindaci debbano mettersi in mezzo dappertutto mettersi il faccione così la gente si ricorda così puoi dire che ho fatto questo ho fatto quello ho messo i soldi quindi si devo essere io l'idea italiana che ho messo i soldi quindi si devo essere io è assurda è mi fa andare abbastanza in tilt non la capisco cosa c'entrano i sindaci di queste cavolo di cittadine nella presentazione verso il pubblico di una corsa cosa gliene può fregare al pubblico del saluto infatti gli rovinano il canale youtube hanno 25 visua youtube lo vede fa la media dice hai un video a 400 visua complimenti ah però ne hai 6 da 25 visua non complimenti non li faremo girare negli spiaggiano ma questo perché youtube è cattivo in realtà l'abbiamo sempre detto che dobbiamo fare siamo ancora a Dezan che sul palco dell'arrivo intervistava tutti gli amministratori di turno locali all'epoca era una cosa pittoresca anche folcloristica però insomma faceva un po' stra paese ma era un po' in linea con quello che era non dico il ciclismo ma proprio il paese oggi sinceramente data la raffinatezza a cui si è arrivati per quanto riguarda le strategie di comunicazione e quant'altro e vabbè ma sono persone un po' anziane forse cioè odio ora mi alieno alla simpatia degli anziani che ci seguono facendo peraltro parte si sta che una parte che gli anziani non capiscono i meccanismi il problema è che intendevo dire che sono legati a vecchi schemi e che però magari dovrebbero ascoltare chi adesso queste cose le ha studiate ormai da un sacco di tempo esistono studi su queste cose e se non sbaglio tra l'altro è Valerio Bianco che fa la comunicazione di questa corsa quindi è molto bravo conosce bene strategie e me lo immagino lui come tanti altri eventualmente costretti a fare queste cose mentre sanno ovviamente perché lo sanno che gli sta distruggendo tutto il resto del lavoro e che gli comporta delle gran rotture di maroni ma sapendo anche che lo devono far per forza perché se il sindaco non riceve quella roba lì il passaggio della corsa e i soldi non te li dà che è una cosa incredibile ovviamente non dovrebbe ragionare in questo modo il sindaco sindaco attacca il ciuccio dove c'è il padrone dice il proverbio qui meridionale quindi non so Stefano che dobbiamo fare organizziamo una corsa io volevo organizzare un giro femminile qui da nelle parti però è molto difficile molto difficile ora diranno vedi quando provi a fare due cose ti rendi conto della difficoltà ma infatti nessuno nega ma lo sappiamo certo però capito io nel momento in cui mi sono reso conto che era una cosa che forse avrei potuto fare ma avrei potuto farla in maniera un po' raffazzonata allora ho detto no vabbè o posso garantire cioè che figura ci faccio io come ciclo web ho sempre parlato di determinate cose allora o posso garantire un determinato standard cioè in anni in cui il ciclismo femminile non era quello di oggi era più simile al ciclismo junior di oggi cioè c'era molta capito artigianalità nel fare le cose e io invece volevo fare una cosa di quattro giorni di quattro tappe a marzo un periodo pre-stagionale diciamo per le donne però volevo ospitarle capito in un resort di un certo livello volevo offrire un trattamento quale quello ritenevo fosse necessario no per delle corretto per delle elite quindi insomma ho fatto i miei giri di contatti ho girato per un po' di mesi qualche manifestazione di interesse l'ho raccolta ma poche rispetto a quelli che erano invece le mie idee e quindi ho detto vabbè dai lasciamo stare non si può fare questa cosa diciamo che ci ho dedicato tre mesi sei mesi così del mio tempo dei miei ritagli e pace l'ho fatto così pro bono esiste una tipologia di progetto che marco grassi non ha tentato nella vita alla prossima puntata per l'ennesimo esiste qualche tipologia di progetto su cui marco grassi non abbia fallito esatto che ha abbandonato molto bene molto bene la maniacalità la maniacalità tipica dei geni non c'è niente a fare se devi fare una cosa tanto per fare poi dopo devono succedere cose che non devono succedere oppure le persone non devono sentirsi no? trattate in maniera adeguata potevo pure dire ok va bene per l'alloggiamento tanto era un'unica struttura perché le distanze erano ravvicinate le portiamo tutte in un in un convento perché ci sono anche queste non ridere non ridere ci sono state storicamente di queste dormitori capito? no no sono di lusso poi nei conventi eccetera sono stato anch'io in passato oppure in pensioni di terza categoria io ci sono stato per dei tornei di basket giovanili a dormire in posti del genere infatti sì sì oppure in pensioni di terza categoria era lo standard certo quando qualche anno fa insomma mi si impasta la lingua oggi quindi non era però il mio standard io avrei voluto fare una cosa diversa esatto quindi quando uno fa una cosa però non ci sono riuscito quindi cos'è? il meglio è il nemico del bene? forse sarebbe stato meglio organizzare una corsa per dare la possibilità a qualche atleta di mettersi in mostra di fare esperienze eccetera oppure non c'è una risposta capito campionato europeo scusami poi chiudo probabilmente gli organizzatori dell'atletica Ionica Race erano consapevoli che non ci fossero le condizioni però hanno provato lo stesso pur che sia dice dai proviamoci perché è un peccato perché poi in questi casi succede anche che una corsa chiude e poi non riapre più anche se a volte non ci prendiamo un anno di pausa poi dopo quindi ci sta che abbiano cercato di salvare la baracca in tutti i modi e forse gli stanno andando male perché le cose si girano dalla parte dall'altra parte in questo momento mentre registriamo ancora non c'è un'ufficialità da parte della corsa quantomeno che quantomeno dovrebbe in ultima istanza farci sapere lei cosa succederà sia alle squadre che al pubblico più che tra le squadre appunto eh sì ma le squadre immagino sappiano già e adesso stiamo cercando un modo per indorare la pillola magari detto ciò o lavarsi le mani togliersi più responsabilità possibile è quello che spesso succede in questi casi detto ciò europeo di domenica vale a dire il maschile elite abbiamo un percorso in realtà abbastanza facile diciamo che se fosse stato qualche anno fa sarebbe stato uno sprint garantito una volata sicura più o meno mentre oggi esistono ancora le corse da volata compatta di un giorno insomma insomma quindi comunque diciamo che vincerà sicuramente una bella ruota veloce che però magari non sarà in un gruppetto totale di tutti quanti ma un po' più ristretto perché ci saranno attacchi eccetera eccetera a livello di parco partecipanti abbiamo un belgio abbastanza stellare con la doppietta Fout Van Aert Arnaud Delis che in caso di arrivo insomma appunto in volata ristretta è veramente clamoroso sono clamorosi tutte e due e lì infatti si riproporrà per l'ennesima volta il tema del belgio chi è il capitano chi è il più forte dei due boh chi è che va protetto dei due boh immagino andranno per Van Aert di base ma Delis obiettivamente in volata è più lento di Van Aert non ne sono mi casicuro poi di questo Van Aert quindi è la solita storia è la solita storia siamo di nuovo qui Marco allora Lampart Stuyven anche tutti gli aiutanti eccetera eccetera succederà questo arriverà un gruppo di 40 corritori a giocarsi la corsa Van Aert tirerà la volata da Delis e faranno primo e secondo primo Delis e secondo Van Aert così Van Aert è felice di aver preso il suo secondo posto che gli permette di agguantare Ganna Ganna terzo così rosica ed è lì vince come un po' tutti o comunque tanti dell'osservatorio uso un termine che mi piace poco prevedono insomma immagino che possa succedere il corrido che tiene che è a fondo ha fatto ultra bene alle canadesi ha vinto la prima ha fatto comunque bene per le sue possibilità anche la seconda che poi è diventata forse molto più dura sappiamo che è un talento incredibile vince un sacco sta iniziando appunto a vincere anche le corse più importanti con tutti i protagonisti presenti ne parliamo qui da quant'è che ti dico di Delis che ti straccio con Delis dall'inizio dell'anno scorso proprio sono minimo sei anni esatto però comunque in tutto ciò non sarà assolutamente semplice perché per esempio la Danimarca a Mats Pedersen la Gran Bretagna a Tarling che se vuol fare il Remco deve vincere anche nella prova in linea vabbè era una gag questa però Gran Bretagna per Vernon magari per la Francia c'è Demar e Laporte che forse anche meglio non lo so in questo momento anche lì potrebbe esserci un pochino di rivalità interna immagino se Nexali invece ormai si è abbastanza riconvertito a ruoli di supporto per l'Olanda c'è Olaf Kui che anche lì se arrivi in volata comunque è favorito lui su De Lille in teoria è volata piatta Kui ma che bella ma che bella Kui quindi insomma bella sfida anche lì l'Olanda penso punterà molto sulla volata perché anche il roster Bucks ok che è fortissimo Mahul Ekoff Mollema Reindeers Skelling Tönisen non è in teoria una squadra d'assalto penso che comunque cercheranno di tenere la corsa chiusa la squadra che può fare come sempre mi viene da dire la corsa d'assalto potrebbe essere proprio la nostra Italia perché ok che Pippo Ganna sta studiando da velocista ma certamente non da velocista da gruppo di 100 ma magari da gruppo di pochi che si gioca una Sanremo che si gioca un europeo oltre ovviamente alla carta stoccata Italia con affini Cattaneo Ganna Sobrero Mozzato Pasqualon Trentin Viviani accendete la locomotiva qua ci sono dei motori proprio tutte brande ovviamente dopo quanto ha fatto vedere la vuelta non vedo altro capitano all'infuori di lui la squadra dovrebbe essere tutta per lui ha saltato anche la crono a posto non c'è discussione sì ma ci sono insomma se su cui fa ma tenuto in conto però conterà anche proprio chi ti lancia la volata secondo me se hai Van Aert che ti lancia la volata c'è Van Der Poel per lanciare la volata a Koi no non c'è non c'è e allora ti attacchi e quarto perché terzo abbiamo detto Ganna a cui dirà la volata Trentini insomma sì fra gli altri si può essere Werenz Kjold anche lui magari può esplodere in questo europeo vedo un gran Zondegenkolb nella Germania vedo Amico Kiatowski diciamo che le nazioni forti le abbiamo già nominate per la Slovenia non c'è Pogacar la Spagna ormai è in caduta libera in questo tipo di corse non c'è Garcia Cortina sì c'è Garcia Cortina che però un buon piazzato dai e niente l'Italia sì deve giocare per Ganna ma come deve giocare per Ganna Marco perché ripeto non è che puoi puntare la volata di Cento comunque e qui bisogna sicuramente far qualcosa smuovere un po' la situa o almeno credo pensi che puntiamo proprio sul treno dici se abbiamo cinque cronome facciamo un gran treno però boh comunque è prima volta che Ganna fa il capitano su strada una bella prova diciamo che il percorso mi dà l'impressione di avere molto spazio in cui si può recuperare quindi questo non favorisce certo l'idea di corse d'attacco però allo stesso tempo bisogna dire che la storia degli europei di questi anni ha detto che l'Italia ha sempre saputo essere molto propositiva insomma i pochi risultati sono visti perché ne abbiamo vinti tanti di europei certo non c'è Cassani sto guardando adesso sì dipenderà anche se ci sarà vento o no oggi non lo possiamo ancora sapere ci sono ancora tre giorni quello cambierebbe di molto gli scenari probabilmente per il resto la selezione non sarà facile però essendoci anche delle strade strette è facile invece ci siano dei frazionamenti e quindi magari il gruppo si possa ridurre così speriamo non per le cadute che pure però dobbiamo mettere in conto è un po' il solito percorso dell'europeo appunto in cui in realtà l'Italia spesso e volentieri in percorsi in cui la volata sembrava scritta è riuscita comunque a fare la selezione a avere superiorità in numerica e poi a vincere ma sai quando ci fu l'europeo in scosia era Glasgow mi sa Viviani no Trentin Trentin scusa scusa quello era un piattone però c'erano le c'erano le tante curve nel circuito cittadino e quindi c'era forse la possibilità però nonostante le curve se l'Italia non avesse fatto un garone quel giorno attaccando da lontano a pieno organico non ne avrebbe capato un ragno dal buco quindi ci vuole un po' di coraggio vediamo si bisogna vedere quanto vogliono esporsi però per l'Italia meglio questo percorso che un percorso con molte salite lì ti saresti giocato altri corridori però la concorrenza c'era il sesto posto forse no no è vero è vero però ripeto io comunque non vorrei arrivare in volata pura con Ganna contro Delì contro Cui contro Cui non puoi fare niente mentre se riesco a portare via il gruppettino con superiorità numerica penso di poter fare molto 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 bene se mi dai tempo sto guardando un attimo la planimetria ma è facile veramente facile ah la planimetria la planimetria sì quella che può fare la differenza non so ci sono lunghi rettilinei capito lunghi rettilinei c'è una parte abbastanza frastagliata con curve nella zona dell'arrivo però poi lunghi rettilinei 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 c'è una decina di rettilinei lunghi un paio proprio lunghissimi quindi comunque ripeto il lavoro di chi insegue è facilitato ci sono ampi spazi per recuperare sì sì però sai la selezione progressiva da frazionamenti diciamo che comunque c'è sempre la possibilità oggi all'interno di una rinnovata visione tattica di bloccare dietro quando poi parti in avanti in qualche modo far fallire il ricongiungimento però sì sarà molto difficile in questo percorso vedremo comunque inizierà ci vedremo e ascolteremo e saluteremo la settimana prossima quando sapremo appunto com'è andata questa gara e ce la godremo perché poi appunto l'europeo in qualche modo in realtà riesce sempre ad essere abbastanza divertente pur non essendo come dicevamo all'inizio sicuramente comparabile a un mondiale per hype per percorso anche per startlist per prestigio ma sicuramente ce lo godremo e ovviamente questo vale anche per tutte le altre le altre gare in linea siamo già come dicevo prima a due ore in argento l'Italia fa sempre abbastanza bene poi in questo campo e bene speriamo di continuare così Marco tu pensi che io sabato sera ho un matrimonio quindi domenica non so in che condizioni sarò per seguire questa cosa hai subito un invito di matrimonio potrebbe essere l'ultimo matrimonio a cui vado metterò una moratoria dirò non mi invitate più per favore oppure poi puoi fare che ma lasciate bene fuori invece che pagare tu ci vai solo se è pagato cioè date mille euro e vengo al vostro matrimonio quanto mi dai bella questa carino sei invitato al mio matrimonio quanto mi dai ti fa litigare con i parenti però ti fa litigare con i parenti ma perché mi hai mandato l'Iban ti devo dare io il mio guarda che non serve il tuo per fare la transazione va bene caro Marco ci vediamo la settimana prossima ciao a tutti buon europeo buon europeo un saluto a tutti ci vediamo la settimana prossima ciao